Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie mille, Arianna Gatti, per le 30 salve regalate. Arianna, sei veramente una grande. Grazie mille. Mamma mia, guarda, questo qua ti faccio un elogio veramente, Arianna Gatti, hai reso un uomo. Un punto in dieci minuti. Sì! La gente è come noi! Nel prossimo TikTok, qualunque ragazza sarà presente, vuol dire che è una ragazza con cui io avrei un rapporto sessuale. Manu, sono solo marronini fatti di merda. Sono bianchi. Ma dai, ma dai, ma cioè, asciuga la testa a cocca e diventa un blu, dai. Vai. Chi è? Ha fatto prima a cocca? A posto. Vabbè, comunque tanto ha perso Manuxo. Manuxo devi rispondere a un'altra. Bro Giorgino, dai che sono più di 100, vaccona. Mi piace cocca, dai. No, dai, ci sta, ti riammetto. Ti riammetto perché abbiamo una cosa in comune, dai. Uno smoking, no. Verrei fumando, sì. Prossima domanda. Che tipo di coccole fai? Sì, sì, sì. Un sacco. Poi mi annoio, quindi meno. Direi quattro volte a settimana. Sì, invece, anche dopo quattro anni continuo a sfondarti come una puledra. Non mi lamento. E andiamo! Ok, quindi si rimane su una media di due o tre giorni. Tu non sei più fidanzata. Tu la consideri... Lei ti voglio bene come fidanzata. Tu non lo voglio più bene. Io la voglio bene. Va bene, la voglio come fidanzata. Come fidanzata. La tua ex fidanzata. Va bene, la voglio ancora, la voglio ancora, la voglio ancora. Sicuro? Sì. Ok, va bene. Grazie a voi e sarebbe una cosa fortissima. Cioè, arrivarci in abbonamenti. L'olacustre! Ciucciamelo! Ho sputato, no. Ho bagliato. L'olacustre! Ciucciamelo! Matteo, io sono serio. Sì, sì, serio, serio, sì. Senti, queste puttanate, falle a Rubino. Non le fa a me. Perché a me come sbatti male, hai capito? Perché, insomma, io non giocasco a queste puttanate. Non ci sto, mi dispiace. Va bene. Queste sono cose alla Rubino. Nella vita non mi piace fare nulla. Oppure andare a ballare e divertirmi con le mie amici. 16 anni, andare a ballare. Ma io dico. Ma non lo so. Ma solo io giocavo a Yu-Gi-Oh! Alla tua età. Ma perché? Ma io era così bello. C'era buco nero. Una carta trappolata. Una carta bellissima. Era i Giechi. Ma era così bello. Anche già capire solo. C'è. Mi dici che hai chiesto una tipa di poterti mangiare il tuo sperma. E ho detto, no, no, è mio. Non lo so. Ma pensa a te. Vabbè, direi che... Abbiamo detto tutto, no? Abbiamo detto tutto. C'è qualcosa che volete dire? Non lo so. Avete mai provato a filmarvi mentre facevate l'amplesso? No. Questo no. Ed è una cosa da fare? Dove resta? Sai che non mi interessa. Cioè, non ce ne ho mai pensato. Però probabilmente sì. No, me l'hai detto che... Con tutta quella bella potenza... Torno subito, esco un attimo. Dai, esci, babbo. Cosa hai detto? Sono uscendo. Cosa hai detto? Esci. Grazie per ripet, cazzo. Che hai detto? Eh? Cosa hai detto? Esci che... Esci, esci, che giochiamo a calcio. Può mettersi sopra che io non ce la faccio più. Eh, dai. Guardi solo. È giusto. È giusto. Quali sono stati i feedback, Mary, della prima volta? Cioè, secondo te è stata una prima volta bella oppure... Allora... Ah, ok. C'è stata... Non so se... C'è stata continuo. No, c'è stata una piccola... difficoltà. Quindi... Ok. Diciamo che è stata meglio la seconda volta. Ok. Kiba, come è stata la prima volta? Abbiamo un link al nostro caro amico Leon Fawn. Tu, Manu, se lo conosci, Leon Fawn. Cioè, tipo... Eh, esatto, esatto. Cioè, che vuoi per forza... Vabbè, con te ci sta. Ah, magari. Adesso si è panicato Fawn. Un po', ma neanche troppo. Cosa guardavi mentre cantavi? Tua madre. Io ho già parlato di questo discorso. Hai sentito l'alert di Coq? Non è che io l'ho sentito. Coq è molto felice di questa cosa. Ragazzi, altri vici sal, gentilmente. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. È il tuo miglior alert. Coq, se vuoi che lo tolgo, dimmelo subito. Dai, zitto! Coq, basta dire toglilo. Basta dire toglilo, lo tolgo. Oh, Mary, sta attenta adesso. Ma credo bene. Grazie del loro room. Faccelo sentire questo audio. Ciao, sono Coq esci. Fabiore, mi manti come l'aria. Mi fa volare. Ah, mi fa volare. Grazie per gli abbonamenti regalati Greenboard. Fabiore, torna da me. Mi manchi, Fabiore. Mi fa volare. Scusa la nuova ragazza. Grazie mille.